Ad oltre due anni di distanza dalla tragedia dell'archivio di Stato, costata la vita a Piero Bruni e Filippo Bagni, la vicenda adesso è arrivata in un'aula di tribunale per l'udienza preliminare. Era infatti il 20 settembre 2018 quando i due dipendenti persero la vita asfissiati dal gas Argon, fuoriuscito dall'impianto antincendio dell'edificio di Piazza del Commissario. Un'ambulanza per favore. Mi dà la via per favore. Allora, Piazza del Commissario numero 1, in cima a Corsi Italia. Sì, mi dice anche che è successo. Senti, è partito le bombole dell'antincendio, ma i miei colleghi sono andati a vedere e non... Cosa vuol dire, partite le bombole dell'antincendio? Che è successo? Ha nascito l'acqua? No, 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 sono bombole con del gas particolare. Quella mattina però non c'erano fiamme, si trattò infatti di un falso allarme come stabilito dalla perizia. L'impianto scattò perché gravemente difettoso, montato male, senza dispositivi di sicurezza, addirittura con una valvola al contrario e nessuno sfiato esterno. Per la morte dei due impiegati, la PM Laura Tadei ha chiesto il rinvio a giudizio di 13 persone, accusate di duplice omicidio colposo, tra questi il direttore dell'archivio all'epoca dei fatti e colei che lo aveva preceduto sino al 2016, e poi anche l'ex vicecomandante dei Vigili del Fuoco, Antonio Zumbo. Questa mattina ha preso avvio l'udienza preliminare di fronte al GIP Claudio Lara, che ha definito un calendario delle udienze. L'ultima è in programma per il prossimo 6 aprile. In quella data il giudice dovrà decidere se mandare a processo, come chiede l'accusa, o meno i 13 imputati. È un processo piuttosto complesso che ha bisogno di essere abbastanza, almeno anche in questa fase, sviscerato e articolato, dove si sono costituite le parti civili dei familiari, dove sono state chiamate in causa anche altri soggetti, altri responsabili, e vediamo un po' come succede. Sono degli imputati a richiesto un rito alternativo? No, attualmente no.